Ciao a tutti, sono le 17.03 del 7 ottobre il giveaway in collaborazione con Sole Luna è stato chiuso ieri sera verso le 20.15 per la precisione e sono stati ricevuti come vedete 449 commenti l'estrazione questa volta sarà diversa nel senso che come vedete in alto c'è aperto Random Chooser quindi io selezionerò tutti i commenti che vi faccio vedere sono su un'unica pagina e premerò poi il tasto Choose tante volte fino a quando non uscirà un link valido quindi vado a selezionare tutti i commenti, li coppio e li incollo allora come vedete l'ultimo commento è questo qua, ve lo faccio vedere per controllare meglio vedete questo è l'ultimo commento allora ora premo il tasto Choose, ovviamente se esce un commento piuttosto che parole che non sono ovviamente nicca io continuerò a premere il tasto Choose, iniziamo ecco, Nuvola Marica allora adesso controllerò che Nuvola Marica sia iscritta al mio canale e che abbia lasciato non più di 3 commenti allora Nuvola Marica ho controllato, è iscritta al mio canale ve lo faccio vedere qua ha lasciato precisamente 3 commenti il 30 di settembre quindi Nuvola Marica sei la fortunata vincitrice, congratulazioni ti prego di inviarmi tutti i tuoi dati per la spedizione quindi nome, cognome e indirizzo e provvederò al più presto a spedirti il premio vi ringrazio veramente tutte per la partecipazione per i bei commenti spero continuerete a seguirmi ci saranno dei nuovi giveaway ormai che stagionano su Youtube e quindi sto cercando di preparare qualcosa di carino e vi mando un grosso bacio e noi ci vediamo al prossimo video ciao